L'Opera di Guido Fiorini L'intensità della sua carriera è riflessa dalla vastità del suo archivio artistico composto da schizzi, disegni e bozzetti ad acquerello donato nel 1990 al museo della tappezzeria Vittorio Zironi di Bologna dalla figlia Azzelia Fiorini Benedek e dal nipote Giorgio Benedek Come appare riportato in un manoscritto allegato alla donazione lo stato di servizio autografo del pittore bolognese Guido Fiorini dove egli stesso ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera l'inizio della professione avvenne nel 1902 presso lo studio di San Francesco in Bologna sede della società Emilia Ars È stato pertanto deciso di dedicare questo primo studio ai disegni realizzati dall'artista per il settore merletti e ricami antichi della società stessa la maggior parte dei quali appaiono qui pubblicati per la prima volta e alle altre opere di grafica presenti nella donazione per la maggior parte iniziali e testate di pagina ornate del tutto inedite Come è noto, la società Emilia Ars venne fondata a Bologna il 3 dicembre 1898 per iniziativa di un gruppo di notabili intellettuali e con la direzione artistica di Alfonso Rubiani allo scopo di riqualificare e dare impulso alle arti decorative emiliane La società comprendeva numerosi settori di produzione che, malgrado il successo ottenuto nel 1902 alla prima esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino vennero chiusi nel 1903 quando il presidente, il conte Francesco Cavazza decise di mantenere attivo solo il settore Merletti e Ricami a Punto Antico guidato dalla consorte Lina Bianconcini Cavazza e con la direzione artistica ancora affidata ad Alfonso Rubiani che mantenne l'incarico fino alla morte avvenuta nel 1913 e in seguito ad Achille Casanova L'anno di inizio dell'attività del settore femminile della società Emiliars con sede nel centro di Bologna in Vio Cubassi numero 21 è considerato il 1901 mentre nel 1936 la società venne posta in liquidazione Il materiale conservato al museo della tappezzeria Vittorio Zieroni di Bologna relativo ai disegni di merletti realizzati da Guido Fiorini illustra nella maggior parte dei casi studi e dettagli di colletti per signora destinati ad adornare le scollature poi come imponeva la moda femminile della Belle Epoque velate dalla Gimp ma anche centri, balze e angoli di tovaglie difedere e coprifedere cornici e bordi a diversa destinazione Sono anche presenti i disegni realizzati per la chiesa di San Domenico di Bologna e per la basilica di Sant'Antonio di Padova che raffigurano esclusivamente balze di tovaglie d'altare Le opere di grafica, come accennato per la maggior parte iniziali e testate di pagine ornate ma anche un insieme di disegni realizzati dall'artista per la figlia bambina vennero realizzate tra il 1905 e il 1930 circa Da queste emerge un uso sapiente del bianco e del nero per il quale fu senz'altro determinante l'apprendistato giovanile dell'artista presso un tipografo ma anche il sodalizio con Alfredo Baruffi artista della cerchia di Alfonso Rubiani che scelse di dedicarsi particolarmente alla grafica L'abilità della composizione delle incorniciature naturalistiche ma anche la grazia e la ricerca espresse dalle diverse declinazioni del tema floreale mostrano invece un riflesso del profondo sodalizio artistico con Achille Casanova che Guido Fiorini affiancò dal 1938 al 1940 per completare la straordinaria impresa delle decorazioni ad affresco dell'abside della Basilica di Sant'Antonio di Padova Queste opere appaiono soprattutto l'espressione di un artista che per questo settore della sua attività scelse di rimanere sempre fedele ad una cifra e ad una maniera scopertamente Liberty In alcune è infatti più evidente il movimento fluido caratterizzante dell'art nouveau espresso anche dalla vitalità delle folte e flessuose capigliature femminili In altre appaiono chiari riferimenti allo stile déco riconoscibile nella ricercata simmetria di alcune decorazioni dove spesso appare anche una minuta ornamentazione a carattere geometrico e astratto di origine secessionista e in alcuni casi in un naturalismo meno diretto e più stilizzato Tutte però esprimono soprattutto una cifra ed una maniera essenzialmente Liberty intesa come stile gioioso e giovanile un'arte che celebra la bellezza estesa anche alla quotidianità evidente nei disegni allegorici che propongono scene domestiche ma anche e soprattutto esplicita nella rappresentazione dell'universo femminile un'immaginaria galleria di ritratti con volti che riescono a trasmettere differenti messaggi gioia, calma e armonia ma anche inquietudine sottile Pienamente Liberty è anche la rappresentazione del nudo femminile che nel significato di tramite con il mondo della natura divenne una categoria estetica e il genere più rappresentato nelle varie traduzioni artistiche di quegli anni che Fiorini svolge in molte lettere ornate e in un alfabeto completo realizzato su fondo nero e su fondo bianco www.sorbit.com.br www.sorbit.com.br Grazie a tutti